sherry red ristampa i quattro album dei dinosaur junior pubblicati su warner tra il 1991 e il 1997 l'intera warner era della band dopo gli album con la sst ripubblicata in versione extended la collezione è disponibile in versione doppio vinile e in versione doppio cd digipack attreante in ordine cronologico il primo disco che è green mind pubblicato nel 1991 in copertina priscilla ovvero il noto scatto realizzato nel 1969 da joseph zabot fotografo di strada ed eccellente narratore della vita suburbana new yorkese lo apriamo e lo liberiamo dal rivestimento in plastica e ne riveliamo la struttura che accomuna tutti e quattro cd della collezione qui a sinistra uno dei bulldog dj maschis l'ultimo dei quali si chiama biffi e ovviamente non è questo l'artwork rispetta quello dell'album originale ma è arricchito da nuove foto con la consueta cura di sherry red records i cd riportano i titoli del contenuto con la stessa grafica dell'album e se notate bene anche il marchio sherry red è stato ridisegnato con quello stile handwritten ovvero disegnato a mano lo sfondo degli alloggiamenti riprende i colori e il tono delle fotografie principali mentre il booklet è inserito nella prima anta a forma di busta e come vedremo è ricco di informazioni un po di storia dell'album mentre sfogliamo le pagine del booklet green mind fu pubblicato nel febbraio del 1991 ed è uno spartiacque fondamentale nella carriera dei dino quarto album per la band dopo bug del 1988 ristampato dalla sst è il primo disco ad essere pubblicato su un major dalla warner bros attraverso i marchi blanco e negro e side records ed è il primo senza lubarlo al basso dopo la sua uscita appunto dalla band che era avvenuta due anni prima i dinosaur junior seguono quindi la scia di quelle band indipendenti degli anni 80 come gli uscardui replacements che a un certo punto firmano e passano sotto una major la crisi tra barlow e jameshes era comunque già percepibile dai risultati di bug non solo perché lo stesso barlow descriverà quel periodo come il più deprimente e miserabile della sua vita ma per la stratificazione chitarristica dell'album che di fatto copre e cancella i contributi proprio di lubarlov la nuova formazione per jameshes si configura nel 1990 con il singolo the wagon pubblicato per sap pop in formato 7 pollici oltre a marf membro storico della band arrivano donna drash delle future team drash il chitarrista don fleming e il bassista jay spiegel entrambi provenienti dai gamble il ponte con la sub pop è assolutamente logico considerato il crocevia che allora rappresentava e le band sotto contratto come madonna etad nirvana il singolo per sap pop serve a meshes come biglietto da visita sostanzialmente alla warner ci avriva appunto attraverso la blanco e negro di jeff travis già fondatore della rough trade e che precedentemente aveva messo sotto contratto i jesus mary chain per jameshes aveva ovviamente un senso nonostante le energie positive rimesse in circolo i dinos or junior ora più che mai dimostrano di essere un concetto espanso e fluido intorno alla figura dello stesso jameshes che nel disco suona chitarre basso scrive le parti di batteria per marf come del resto aveva sempre fatto ma green mind è un album potente e compatissimo che in qualche modo imposta il suono futuro dei dinos or junior suonando del tutto naturale senza cercare facili gratificazioni commerciali e vendere appunto l'estetica di jameshes che rimane coerentemente ancorata al proprio mondo sonoro ed estetico l'edizione sherry red è costituita da due cd il primo con la track list completa dell'album costituita da 10 tracce da 8 tracce che poi includono le besides dei singoli usciti per la promozione dell'album inclusa una cover di quicksand di david bowie pubblicata come retro appunto del singolo di the wagon il secondo disco contiene l'inedito live pubblicato per la prima volta e registrato nel 1991 ad hollywood durante il tour di promozione di green mind sono un totale di 16 tracce dal video registrate tra l'altro benissimo il design del digipack è curato da keith david per la altmark creative e ovviamente incorpora l'artwork della copertina originale con la notissima foto come dicevamo scattata dal fotografo joseph zabaud nel 1969 intitolata priscilla le note di copertina sono realizzate invece da keith cameron e ricavate da un'intervista con j meshes notoriamente di pochissime parole invece in questo caso le note sono illuminanti e assolutamente esaustive secondo cd sherry red della serie dinosaur junior expanded edition quinto album per la band di j meshes il secondo ad essere pubblicato su major nel 1993 where you been lo liberiamo dalla plastica di protezione per vederne la struttura molto simile al precedente con la stessa filosofia per quanto riguarda l'artwork in copertina con i disegni di angry johnny così come nell'anta interna che contiene il booklet con le note principali e il nome di john agnello alla console medesima struttura per quanto riguarda i cd che riprendono i colori lettering e gli elementi fondamentali dell'artwork incluso lo sfondo destinato all'alloggiamento del digipack apriamo il booklet ricco di note biografiche discografiche e mentre lo sfogliamo raccontiamo alcune cose dell'album where you been è considerato come uno dei migliori album rock dei 90 diversamente da green mind la band che lo registra è pienamente nelle sue funzioni ad accompagnare j meshes c'è il bassista mike johnson e marfa la batteria quindi un trio johnson aveva già contribuito alla registrazione di green mind ma era presente solo per tre brani l'album nasce nel 92 dopo un lungo ed estenuante tour che conduce j meshes e soci per tutti gli stati uniti una delle date più belle di quel tour è quella all'hollywood palladium del 14 giugno data condivisa con le hall e nirvana che è appunto documentata nel secondo cd di green mind quello che abbiamo visto precedentemente quel tour si conclude con un lungo passaggio europeo insieme ai nirvana e ai sonic youth momenti che saranno documentati dal regista americano dave markey nel seminale documentario the year punk broke valutiamo che il trio meshes marfa johnson debutta così composto con whatever school with me un ep pubblicato alla fine del 91 il tour successivo quindi li rende affiatati e guerriti per le registrazioni dell'album che avranno appunto a new york ai dreamland studios durante l'estate in un periodo in cui il successo dei nirvana proveniva anche dalla capitalizzazione delle intuizioni dei dinosauri junior dei sonic youth dei melvins j meshes continua il suo discorso approfittando del periodo proficuo le registrazioni segnano anche la prima collaborazione con il tecnico del suono john agnello che diventerà sodale fino ad oggi tra l'altro per i progetti di j meshes contribuendo a portare una diversa qualità del suono considerati i suoi progressi con artisti del calibro di hip hop john cugar mellencamp ariel smith l'artware del disco è affidato alle pitture mostruose di angry johnny che per l'edizione sherry red sono incorporati in un design complessivamente curato da keith davy dell'altmark creative il wcd contiene le dieci tracce di where you been nel primo disco insieme ad altre sei dedicate alle besides pubblicate nei singoli dell'epoca brani appunto raramente ascoltati tra cui la splendida yangiana nel senso appunto di ni yang turnip farm lunghissima cavalcata elettrica che si appiccica addosso e non va più via il secondo disco contiene le splendide bbc sessions registrate nel periodo di promozione dell'album e in live al st paul civic center sono ben 14 tracce mai pubblicate provenienti dal tour di where you been registrata il 9 gennaio del 93 come appunto si legge dalle note la fonte di registrazione è sconosciuta la qualità in effetti è a livello bootleg ed è molto differente dal live all'hollywood palladium registrato con un'ottima qualità sonora che è appunto presente nel cd di green mind without the sound è il sesto album dei down as our junior è il terzo pubblicato su major nell'agosto del 1994 liberiamo dalla plastica protettiva il digipack extended pubblicato da sherry red per la collezione dedicata appunto ai dinosauri junior l'artwork come possiamo vedere è identico all'originale ma ovviamente con alcuni arricchimenti che ne incorporano e ampliano gli elementi grafici principali splendidi i disegni che corredano le ante interne e la grafica su cd che come per altri è perfettamente personalizzata sulla base del lettering dei colori e della grafica originale su entrambi i cd riferimenti ai contenuti il marchio sherry red personalizzato in stile dinosauri junior lo sfondo riprende alcune foto interne anche al booklet apriamolo il booklet ricco di note e dettagli biodiscografici e raccontiamo qualcosa sulla storia dell'album mentre lo sfogliamo con without a sound marf è uscito dalla band ormai ridotta ad un duo con james she's che suona tutte le chitarre suona la batteria e canta mentre mike johnson si occupa del basso john agnello come per il precedente il tecnico del suono il disco viene ancora una volta registrato ai dreamland studios di new york without a sound è l'album di maggior successo dei dinosauri junior e probabilmente l'ultimo celebrato nato sul crinale della fine di un'era segnata dalla morte di carcobain morto qualche mese prima appunto un'onda d'urto emozionale che trascima anche sul fattore creativo e without a sound è influenzato da questo passaggio e da quel conflitto a tratti risolto e a tratti straordinario che aveva reso grande la comunicazione tra artisti provenienti dal contesto indipendente e le possibilità offerte dalle major tra l'altro il padre di james she's muore proprio durante la lavorazione dell'album e quel senso di inadeguatezza di transito che si sperimenta nel passaggio all'età adulta e che attraversa tutti i dischi dei dinosauri junior dai primi anni 90 fino alla metà del decennio trovano una sorta di compimento estetico più profondo proprio in without a sound l'album comincia con il suono di una bottiglia stappata una bottiglia di single malt whisky preludio al riff della splendida feel the pain il videoclip di feel the pain tra l'altro fu diretto da spike jones e contribui a piazzare il singolo al quattro posto nelle classifiche rock di billboard l'edizione sherry red di without a sound contiene oltre alle 11 tracce dell'album anche una serie di bonus tracks di versioni strumentali il tutto nel primo cd mentre il secondo come i precedenti della serie include un live registrato a londra nel 94 11 tracce mai pubblicate sino ad ora registrate alla brixton academy ad ottima qualità considerato anche che la fonte appunto è quella di bbc radio one hand it over è il settimo album dei dinosaur junior e il quarto ed ultimo ad essere pubblicato su major viene pubblicato nel marzo del 97 sarà l'ultimo album della band fino al 2007 anno che segnerà il ritorno dei dino con un'etichetta indipendente la fat possum apriamo il digipack cherry red realizzato con la consueta cura e strutturato su treante che riprendono gli elementi grafici dell'originale tra fotografie disegni e colori stessa cosa per i cd però meno colorati degli altri realizzati in toni di grigi con i consueti dettagli sul contenuto realizzati con un lettering rigorosamente a mano il booklet interno è ricco di dettagli biodiscografici e mentre lo sfogliamo vi raccontiamo alcune cose sull'album mentre without sound fu spinto dalla warner grazie anche alla heavy rotation del singolo feel the pain su mtv ad un budget oltre la comprensione stessa della band hand it over fu abbandonato a se stesso dall'etichetta la warner non si impegnò per realizzare alcun singolo né un video di supporto tranne i'm insane che però fu pubblicato solamente su sette pollici da una sussidiaria dell'island all'etichetta trade to di proprietà di gaff travis c'è anche un video molto lo fai realizzato in quel periodo molto divertente diretto da philip virus regista berlinese che in quel periodo lavorava molto con artisti come alec empire sonic youth john spencer blues explosion e che quindi dirige james she's a caccia di un vampiro per le strade di new york insieme al suo bulldog l'album vendente 34 mila copie contro le 263 mila del precedente ma and it over forse l'album più duro dei dinosaur junior dai tempi di bug l'ultimo album della band pubblicato per la sst un modo per sbarazzarsi dell'era post never mind che risolve in modo estremo i rapporti con la stessa warner che in qualche modo fa di tutto per non promuovere il disco l'album viene anticipato da un lavoro laterale di james she's la colonna sonora per grace of my heart film del 96 diretto da ellison anders e interpretato dall'amico di meshes matt dillon per il film meshes scrive tre brani in stato di grazia e la formula duo di without sound viene ripetuta anche per rend it over quindi mike johnson al basso e james she's a tutto il resto cambiano molte condizioni produttive perché dopo aver lavorato con george berz un batterista che avrebbe dovuto in qualche modo completare la line up per il tour dal vivo james she's decide di non utilizzarlo per le registrazioni a causa di alcune incompatibilità e di registrarsi il disco a casa nel suo home studio and it over è quindi il primo disco da green mind in poi in cui dinosaur junior non si servono di john agnello come tecnico del suono un accordo assolutamente pacifico perché james she's si sentiva più a suo agio da solo in questa fase non aveva bisogno di interventi aggiuntivi agnello si occuperà solo del mix finale agli electric lady studios di new york il doppio extended di cherry red mette insieme nel primo disco l'intero andy tover e sette bonus tracks che includono l'intero ep registrato per la colonna sonora di grace of my heart tre tracce da riscoprire perché incise con uno spirito completamente fifties tra corista e teremin e un approccio alla beach boys il secondo disco include il live a stoccolma del 97 registrato al water festival da una fonte sonora sconosciuta quindi la qualità è quella un po di un bootleg il design dell'intero packaging è sempre di kit davy che ovviamente incorpora l'artwork originale dell'album vi ricordiamo che l'intera collezione dei dinosaur junior relativa alla warner era ristampata da cherry red in versione stesa è disponibile anche in una serie di doppi vinili gatefold molto belli tutti colorati verde per green mind blu per where you been giallo per without a sound ed infine viola per hand it over il contenuto musicale è identico a quello del cd con la solita track list le stesse bonus tracks ad eccezione però dei live che sono presenti solo nell'edizione cd